L'altro giorno mio nonna, mia nonna, Mari, se ti muori prima tu, che è quasi sicuro, sopra la tombola, ce le scrivi, ci scrive, qui già c'è, nel senso che già c'è, mia moglie, sotto, sai che ci scrive, fredda come nella vita, la nonna gli ha detto, va buono, però Peppe, se ti muori prima tu, ce le scrivi, ci scrive, qui c'è Peppo, mio marito, finalmente rigido. Il nonno non si arrese, dopo tre giorni, Mari, ma che ti metti a fare lo reggipetto, non c'è di più niente dentro. E' da Peppo lo stesso motivo che tu dimittra il modano.